Due nuovi contagi da coronavirus si registrano nella città dei templi e portano a 8 il numero dei contagiati. Sono due donne che lavorano presso il locale distretto sanitario sito in Via Italia. Le due persone positive al covid sono attualmente in isolamento fiduciario domiciliare come disposto dall'ordinanza sindacale. Effettuata immediatamente la sanificazione dei locali. Fortunatamente le due dipendenti del distretto sanitario sono asintomatiche e godono di buona salute.